Un cambiamento c'è stato, chi mi conosce sa quale passione mi lega a questo sport, Alfonso mi ha chiesto una mano un pochino diversa quest'anno e sto cercando di darvela, la passione è sempre più forte, la volontà di andare avanti e di riportare i grossi trofei a Perugia, come già quanto ha detto precedendomi, è quella che ci sta spingendo con la speranza che il mondo imprenditoriale Umbro ci aiuti, ci sostenga, ci dia una mano a ricreare non dico un anno zero, comunque ripartiamo da 40, per i prossimi 40 anni almeno. Bocca al lupo a tutti, grazie ragazze e forza, forza, forza Sirio! Grazie!